La burocrazia ha allungato i tempi ma finalmente ad un paio di settimane dall'inizio dell'anno scolastico la provincia di Rimini è entrata in possesso dell'immobile dell'ex sede ImpDap di Via dalla Chiesa. Lì dovranno essere realizzate le aule chiamate ad ospitare temporaneamente 11 classi del liceo scientifico Einstein che sarà interessato da impattanti lavori di adeguamento sismico finanziati con fondi PNRR. La provincia spiega che sono state avviate le procedure per la realizzazione delle aule all'ex ImpDap ma in merito alle tempistiche si parla genericamente del più breve tempo possibile. Poco più di un mese fa il consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica Giuliano Zamagni aveva però spiegato che la palazzina sarà pronta per accogliere gli studenti solo dopo le vacanze di Natale. Nel frattempo con la ditta che esegue i lavori nella sede storica si è concordato di ridurre il più possibile l'impatto dell'intervento nei mesi di sovrapposizione. L'immobile di Via Carlo Alberto dalla Chiesa è poco distante dal centro studi della colonnella dove si trova l'Einstein ed è raggiungibile agevolmente senza necessità di ulteriori trasporti. Inoltre è di recente costruzione fine anni 90 e in buono stato di conservazione, aspetti che consentiranno tempi più rapidi di esecuzione e minori costi di realizzazione. In prospettiva poi l'ex ImpDap è un investimento anche per il futuro, potrà infatti ospitare classi di altri istituti che dovessero essere interessate da lavori di manutenzione straordinaria.